La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, nella giornata dell'ABI, apre per la prima volta, dopo un attento e curato restauro, le porte della nuova sede fiorentina Villa Fagan. Noi abbiamo aderito a questa annuale iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana, che si denomina Invito a Palazzo, e che vede le banche che hanno sedi di particolare pregio artistico o storico, che le aprono al pubblico perché ne sia consentita una visita al di fuori dell'operatività bancaria. Noi quest'anno, per la prima volta, abbiamo aderito con l'intenzione di mostrare il recupero di Villa Fagan, che abbiamo realizzato con un intervento che ha impegnato per molto tempo, ma che ha dato come risultato qualcosa veramente di pregevole. E questo l'abbiamo fatto con grande soddisfazione perché abbiamo ritenuto che il recuperare un immobile di valore come questo, che rappresenta un'iniziativa coesistente con Firenze Capitale, che riflette valori storici e artistici di grosso valore, abbia rappresentato un qualcosa che è stato fatto per dare alla comunità il recupero di un'iniziativa come questa.